Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio provare a toccare un po' di superfici diverse e sentire che cosa ne esce fuori. Cominceremo con un libro. Un po' di superficie. Un po' di superficie. Un po' di superficie. Ricordatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Un po' di superficie. Un po' di superficie. Un po' di superficie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.